Finisce con un pirotecnico 2-2 la sfida tra Angra e Manfredoni in terra campana, ma la squadra di Franco 5 ha di che recriminare, essendo andata sul doppio vantaggio prima della reazione importante dei padroni di casa Carbonaro Caleme Aschic per l'attacco degli ospiti, nel cui schieramento c'è anche il talentuoso classe 2006 Daniele Balba. Tanta esperienza dall'altro lato per la squadra di Nello di Costanzo con Longo Boa centrali in avanti, Herrera dettare i ritmi a centrocampo e Defranco in difesa. Spazio anche per il gioiellino classe 2005 Ascione al primo affondo e subito vantaggio Manfredonia. Azione insistita degli ospiti dopo neanche due minuti di gara, palla in alleggerimento di Bamba verso l'area di rigore con Carbonaro a ricevere in posizione giudicata regolare tutto solo davanti a Palladino. Gol facile facile per l'attaccante del Manfredonia che mette a referto la sua terza marcatura, la replica di casa con il cross di Ascione da sinistra e il tocco centrale di Fabiano direttamente sul fondo. Al ventesimo poi ecco il raddoppio degli ospiti, Giacobbe avanza palla al piede sino al limite dell'area, scarico per Calemme a sinistra e tiro sul palo più lontano che Palladino non riesce a intercettare. 2-0 Manfredoni ed Angri subito in avanti alla ricerca del gol per rimettere in carreggiato il match. Longo da destra, cross in area, nessuno la tocca ma Ascione perde l'attimo buono per la battuta di prima intenzione ed è bravo nella respinta Borrelli. Ancora Ascione protagonista con un'azione insistita e lo scarico questa volta per Longo il cui tiro è ancora debole e facile per Borrelli. Picascia ci prova direttamente sul calcio di punizione, ancora attento l'estremo difensore ospite Angri sempre proiettato in avanti e sul finale di prima frazione ecco il guizzo giusto questa volta di Palmieri che vince un rimpallo e si ritrova defilato a tu per tu con Borrelli, tocco morbido e sesta rete stagionale a riaprire il match. Ancora padrone di casa prima del duplice fischio del direttore di gara e Ascione a mettere i brividi alla retroguardia del Manfredoni a palla sul fondo ma gli ospiti costruiscono anche la palla buona per ripristinare il doppio vantaggio dopo uno scambio tra Ernaiz e Calemme. Il tiro dell'ispirato numero 10 pugliese finisce però sul fondo dopo una deviazione di palladino alto anche il tentativo di Palmieri direttamente sul calcio di punizione. Si chiude una spumeggiante prima frazione di gioco subito Angri nella ripresa con il solito Ascione che sfrutta corse e dribbling ma trova davanti a sé l'uscita perfetta di Borrelli bravissimo a chiudergli lo specchio ma all'alba del quarto d'ora ecco il pareggio di casa. Azione in velocità portata avanti l'altante Mascione Picascia sfera che finisce sui piedi di Fabiano in aria in posizione anche in questo caso giudicata a regolare tocco preciso in porta nonostante l'uscita di Borrelli. Proteste Manfredonia per la posizione del centrocampista campano. L'Angri allora preme sull'acceleratore e si affida a palloni scodellati in aria per la testa di Longo due volte il capitano di casa non trova il guizzo vincente. Si salva la difesa ospite ma l'opportunità giusta per tornare in vantaggio la costruisce proprio il Manfredonia balba in profondità per Carbonaro bravo a sterzare ed esterno destro a calciare in porta a palladino battuto ma la sfera finisce sulla traversa l'azione poi prosegue e Calemme ci prova con il destro sfera in questo caso intercettata da palladino in corner. Ci prova anche Giacobbe su calcio di punizione nel finale palla docile per palladino e l'ultima emozione del match finisce 2 a 2 tra Angri e Manfredonia con la squadra di 5 che ora tornerà al Miramare per affrontare la Paganese domenica prossima derby campano con la Palmese invece per l'Angri.